sono auto colpito con il canale e se lo stesso posto di prima vediamo e aspetta la gara la prima volta almeno non è se nemmeno siccome i suoi figli al computer non vorrei che muovo si è bloccato a un programma buono per il spettacolo video va bene il cinema non oggi mi ha fatto di essere astro non se mi sento la proposta mi faccio dare domenica mi faccio spettacolo spesso spettacolo non è solo subito io sono spettacolo non muovo un caricatore intero di amor per morire non mi riuscite di solito andando in giro giro tu ultimo ultimo non schifo non cambia non potenziali modello buono solo per farci 2 2 2 guarda dopo il gioco lascia un'ultimo gioco l'ha detto appena ragazzi potete decidere adesso se andare a casa di francesco e nella uccidere oppure metterli indirizzo con lui c'è il nome un pacchetto non occupo del mondo oltre marco non si è bloccato no 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 per favore puoi lanciare una scimmietta? ehm si ma 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 appena in tempo appena in tempo vita rossa sai che significa che mi è salvato appena in tempo con la vita rossa? è buono il figlio anche se non ci sta frenando manco un colpo vabbè che ti salvano un po' di monete eh? a balestra vogliamo fare il trofeo? vogliamo fare il trofeo? eh ho potenziato il mamma mia non mi metto aiuto ma scavano ma non ci credo ma non ci credo che a una mia uscita vieni veloce vieni dove stai? sto sotto alla caverna la scala quella del pack a punch dai eh una parola guarda come stanno a venire qua oh merda beh io devo chiudere comunque eh devo chiudere un attimo vabbè il video lo chiudo eh perchè purtroppo con quattro per su me dai ciao nooo te ne sei andata appena in interno guarda stavo qua vediamo come e vabbè guarda che mi è uscito basta dai 17 guarda che mi è uscito guarda dmg quizz dmg quizz dmg quizz ciao Ciao